Vuoi vincere una Pioneer DDJ 1000 ed incontrare nello stesso momento il DJ numero 1 al mondo? Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude, oggi ti farò vedere come partecipare a questo bel concorso della Top 100 DJs per vincere una Pioneer DDJ 1000, una DJ Bag e incontrare il tuo DJ preferito, il numero 1 al mondo ma anche altri. Dove è questo? Ad Amsterdam, andiamo a vedere! DJ Mag dà la possibilità di incontrare il DJ numero 1 del mondo e vincere un Controller Pioneer DDJ 1000 oltre alla DJ Mag Goodie Bag quindi si può entrare e partecipare a questo crowd founder della Top 100 che nasce per sostenere il programma Vaccineid dell'Unicef quest'anno. DJ Mag offrirà un fortunato vincitore la possibilità di vincere un viaggio ad Amsterdam per incontrare il DJ numero 1 del 2021 che avevamo visto in questo caso essere Mr. David Guetta che si esibirà nella finale, voi potrete conoscerlo nel backstage ma non David Guetta, se vincerà David Guetta. Se poi vincerà un altro, che ne so, vince Alok, conoscerete Alok, ma poi quando siamo lì come si dice l'appetito vi è mangiando. Ora nel quinto anno di una partnership a lungo termine, Top 100 DJs ha raccolto più di 80.000 sterrine per l'Unicef, la principale organizzazione mondiale in aiuto dell'infanzia. Con questi soldi l'Unicef è stata in grado di fornire sufficienti vaccini salvavita per proteggere più di un milione di bambini in tutto il mondo. Quest'anno l'obiettivo della raccolta fondi si sposta sul programma Vaccineid dell'Unicef che mira a fornire 2 miliardi di vaccini e milioni di trattamenti in tutto il mondo. Unisciti ai migliori Top 100 DJ del mondo sostenendo la causa e avere la possibilità di vincere un premio irripetibile oltre ad un controller bellissimo quale la DDJ1000 che molti di voi già conoscono o possiedono. Difatti oltre ad essere scarrozzato per 3 giorni ad Amsterdam con volo gratis, potrete stare in un hotel 4 stelle a Daddyhead, a Babbo Morto ed incontrare i migliori DJ al mondo, in questo caso il numero 1 nel backstage prima che lui vada a raccogliere il suo premio, vada a collezionare il suo premio. E inoltre venirse ne via con una fiammante Pioneer DJ DDJ1000, questa controller all-in-one della Pioneer che ricordiamo ha un bel valore di mercato intorno ai 1400-1500 dipende dove lo si va a prendere ed in più un pacco DJ Mag Goodie Bag. Insomma che volete di più che vi venga io a far da autista? Eccolo qua il DJ Mag Goodie Bag che vi verrà fornito insieme alla Pioneer DDJ1000 e alla conoscenza del DJ numero 1 al mondo come in questo caso era Martin Garrix e lo vediamo in una foto di repertorio e in questo caso David Guetta. Finita tutta sta pacchia ve ne tornerete con le tasche piene come si suol dire e insomma tutto una cosa molto bella, non vi resta che partecipare, andare qui vedete Enterprise Draw e fare la vostra donazione che può essere di 25 sterline, 5, 10, 50 fino a 100 sterline in modo da poter partecipare a questo crowdfunder far del bene che fa sempre bene vi metterò tutti i link in descrizione e poi partecipare a questo evento che potrebbe essere magico e una notte da ricordare per tutti voi. se proprio non entrate nella top 10 quest'anno come DJ potete entrare dalla porta VIP insieme al vostro DJ preferito e stare nel backstage così annuserete un po' com'è l'atmosfera della vittoria che deve essere veramente devastante per noi DJ. Bene, fatemi sapere come la pensate qui sotto nei commenti se donerete e se pensate di avere un DJ preferito da incontrare corsi per DJ, corsi di produzione musicale potrete fare tutto online con me contattandomi nella sezione contact qua sopra compilando il form oppure in maniera ancora più facile direttamente da Facebook la pagina Facebook la trovate in ogni informazione del video in ogni video delle informazioni e contattarmi lì solo per chi vuol fare corsi, lezioni e consulenze per chi sono indicati queste cose, corsi e lezioni per chi inizia da zero o per chi è già bravo e però non riesce ad andare a livello superiore pensa che gli manchi qualcosa, lo vede nei colleghi mi manca questo ma non riesce a capire di cosa si tratta o per chi vuol fare il definitivo salto verso il professionismo. Consulenze per tutti quelli che hanno problemi su hardware, software tematiche trattate da SOS4DJ quali quella legale, quella dello streaming, come suonare in regola Empalz, Inps, CIE, DJ Online quant'altro vi serva per non fare errori ed incorrere in danni contattami in privato per una consulenza. Oltre a questo c'è la pagina Instagram che troverai sempre nelle informazioni puoi mettere un mi piace e la nostra community Telegram con un sacco di materiale extra aderisci e gratis e con le notifiche silenziose. Il nostro canale YouTube puoi iscriverti qua ma non solo, da pochi giorni c'è la possibilità anche di affiliarsi a noi ce l'avete chiesto come facciamo ad aiutarti Claude come facciamo a sostenere SOS4DJ che è tutto gratis ecco qua ci sono diverse formule a partire da 0,99 dove avrete dei vantaggi a salire con un sacco di cose extra e personali in modo da farvi sentire partecipi e che il vostro canale preferito sia una corsia preferenziale per voi andateci a dare un'occhiata potete attivare la campanella per essere informati tempestivamente prima degli altri dei video dei contenuti, dei live streaming sul canale e mettere un mi piace o condividerlo con i tuoi amici se pensi che possa essere loro utile puoi anche sostenerci se non vuoi abbonarti puoi semplicemente offrirci un caffè una pizza, una birra cliccando il tasto Paypal sostieni SOS4DJ così sarei dei nostri e ci riconoscerai il nostro lavoro che per te è gratis ma c'è tanto sforzo dietro quindi come detto un'opportunità più unica che è rara che ci dà la top 100 DJs di andare a incontrare il nostro DJ numero 1 al mondo avevamo visto nella classifica che era il top David Guetta seguito da Dimitri Vegas Like Mike Martin Gerricks Armin Van Buren Alok Don Diablo Afrojack Oliver Elden Steve Eocchi Timmy Trumpet Marshmello fino al numero 100 Marco Carola sono tutta memoria sto leggendo a parte questo vi auguro di poterlo incontrare così da carpirli qualche segreto e crescere piano piano e magari negli anni prossimi essere al suo posto buttandolo giù dal trono scherzi a parte e speriamo anche di vincere questa Pioneer di DJ 1000 che a molti fa gola ne conosco molti che ci sbavano dietro è un gran bel controller e comunque se ve lo danno gratis è tanta roba io come al solito vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata vi ricordo l'iscrizione al canale per noi importantissima e anche la valutazione se volete dell'affiliazione a SOS4DJ con l'abbonamento a partire da 0,99 al mese fino in più con un sacco di badge personalizzati di contenuti extra di vantaggi andatevi a vedere il video dove c'è scritto abbonati avrete tutte le delucidazioni del caso da parte di SOS4DJ e Claude è tutto ci si vede al prossimo video e ricordatevi che la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio piripiri che la vostra soddisfazione che la vostra soddisfazione che la vostra soddisfazione è il nostro